Per quale motivo e cosa si attiva quando noi richiamiamo le varie parole per esprimere dei concetti? E serviamoci proprio del contenuto Dio, di questo significato che nel corso della storia ha assunto diversi nomi. Vediamo proprio di capire cosa ci sta sotto. Partiamo proprio dal termine italiano Dio. Dio ha la D che è numero 4 e sono le 3 più 1 dimensioni della serenità e della unità dello spazio e del tempo come le 4 dimensioni della realtà anche di Dio. Quindi con la D si prende in considerazione proprio la realtà di Dio, della sua unità e serenità. Poi c'è la I. La I è il numero invariante del nostro sistema di calcolo, è quindi un Dio eterno, invariante. Quindi l'ultimo delle tre definizioni è la O che è il numero 13 ed esprime 10 al cubo per 10 alla 10 in quel 13. Quindi è tutto il moto assoluto della Trinità. Quindi quando noi diciamo Dio, tiriamo in ballo, in sostanza, l'unità della Trinità, l'invarianza e il movimento assoluto di tutta la Trinità, di tutto il volume. E quindi questo è in sostanza il concetto Dio. E noi lo memorizziamo proprio per quello che significa in termini di dimensioni. Vediamo altre parole. Al, questo termine era usato dagli ebrei. Al è 1 e 10. Quindi l'unità è il modo assoluto, infero dell'unità, dato da 10 elevato a 10. Quindi il numero 11 è l'indice della potenza di 10 alla 11 e indica proprio l'unità nella sua dimensione assoluta. Gli egiziani chiamavano Ra il Dio ed era il Dio del Sole. Loro in primo luogo osservavano la realtà. La realtà. La realtà è espressa dall'indice 16, ma è anche espressa dalle quattro dimensioni di Dio, 1 e Trino. Il ciclo intero è determinato da 4 diviso 1 più 4 per 1, ossia da un ciclo che mette uno dopo l'altro i due modi diversi di rapportare la dimensione 4. 4 diviso 4 è il suo opposto 4 per 4. Per cui 16 più 1 è 4 per 4 più 4 diviso 4. quindi è il ciclo assoluto dell'unità e trinità. Il termine Ra che anticipa la R alla A pone in ballo prima il ciclo assoluto, il ciclo reale 4 per 4 e poi gli aggiunge il tempo di una reale presenza. Quindi vediamo che anche Ra ha un grande contenuto espressivo di quello che è Dio. La realtà nella sua unità assoluta. Ele era anche un altro modo con i quali gli ebrei chiamavano Dio. Ele è 5 più 10 più 5, cioè 20, e 20 è un indice. In sostanza è 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10. Qualche 10 elevato a 10 è la totalità, è l'unità, è l'assoluto. Qui è l'assoluto che entra in relazione con l'assoluto. E quindi la forma giusta di chiamare Dio Ele pone in primo luogo la E che è il suo contenuto unilaterale della nostra esperienza. Elettrica o magnetica è 10 alla quinta. Poi teniamo in ballo il movimento assoluto, 10 alla 10, in relazione all'unità magnetica, quella elettrica in relazione a quella magnetica. Quindi vedete benissimo che la forma Ele che mette in questo ordine a tre dimensioni, il numero 20, lo fa richiamandosi a un valore elettrico e un altro magnetico in un ciclo 10 alla 10 assoluto. I musulmani chiamano Dio Allah e vediamo che qui c'è Al e poi il suo inverso, il La. Al l'abbiamo visto è 11, il suo inverso è ancora 11 e quindi abbiamo proprio il ciclo assoluto dal negativo al positivo bilaterale nel suo complesso. Altro nome, Eli. Eli ricomincia con il ciclo reale con il ciclo reale, tutto quello elettrico e anche tutto quello materiale. Poi lo moltiplica per il moto assoluto, L, 10 alla 10 e infine per l'invarianza, ossia per una fedeltà e lì infatti è il dio fedele. Il carmine Buddha, usato nel buddismo, è costruito con 2 più 19 più 4, più 4, più 4, più 1, per un 30 totale che vediamo benissimo, esprime la Trinità nel suo 10 assoluto. La parola Buddha con la B prima tira in ballo il rapporto binario in cui è realizzata l'essenza una. Infatti l'essenza una è ottenuta da due valori uguali e contrari che sono moltiplicati tra di loro. Quindi Buddha pone in primo luogo il richiamo al contesto binario della nostra resistenza. Poi c'è la U che indica il 10 alla 10 moltiplicato per 10 alla 9, ossia il 10 alla 10 l'assoluto moltiplicato per l'invarianza dell'assoluto perché 10 alla 9 è tutto lo spazio percorso dal ciclo atomico, strutturale. Quindi tutto il percorso divino. Poi c'è da, il di e il di, però nell'ordine prima il reale e poi l'immaginario. Quindi c'è tutta l'unità e trinità di Dio nei due versi perché Buddha parte proprio con la P che dà valore al contesto binario e anche la A finale mette il carattere definitivo riferendolo al primato assoluto dato da 10 alla lungo.